E' stato inaugurato il centro vaccinale anti-covid-19 dell'aeroporto di Torino-Cazelle, frutto della collaborazione tra Regione Piemonte, ASL, TO4 e SAGAT. L'hub, allestito all'interno dello scalo, in uno spazio normalmente destinato all'accoglienza dei passeggeri, può raggiungere le mille somministrazioni al giorno. Presenti per l'occasione, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla ricerca applicata a covid, Matteo Marnati. Noi abbiamo attivato un centro vaccinale, il primo centro vaccinale di una struttura aeroportuale, che ci permette però di essere ormai a 227 hub come questi, luoghi in cui vengono fatti i vaccini. Noi in Piemonte portiamo i vaccini dalle persone, non vogliamo che le persone vadano dai vaccini, crediamo che sia giusto fare il contrario per farne di più. Quell'obiettivo che ci eravamo dati con il generale Figliuolo di arrivare a 30.000 dosi per metà aprile lo abbiamo raggiunto. Ed ora guardiamo le 40.000 per maggio, naturalmente sempre chiedendo vaccini. In fase di avvio sono state effettuate circa 130 somministrazioni del vaccino AstraZeneca sulla fascia di popolazione over 70. Nei prossimi giorni le inoculazioni diventeranno 500 e potrà essere somministrato qualsiasi tipo di siero disponibile.